euro il fifa 19 qualcosa di più esagerato ma tipo non ti prenderesti un bellissimo camion per sfrecciare nella notte come supercar allora un bellissimo camion un camion il bambino andrea una ferrari ottimo e non fa niente una ferrari dentro un camion quindi una ferrari un viaggio alle alle maldive un panda no un panda è bello bravi bravi panda vabbè panga ah dei manga ok era più bello un panda però dai facciamo che alle volte è per sbaglio infatti metti metti che trovi qualche quindi un panda viaggio alle baleari la ferrari cosa si potrebbe volere anche uno yacht